Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo insieme amici dell'Unitals e non solo, oggi ci sono io Federica e sono in compagnia di Chiara, abbiamo fatto riposare Rita oggi, per una volta viene sempre disponibile. Allora, come sempre vi ricordiamo che ci state ascoltando dalle frequenze radiofoniche 87 e 6 MHz e ci potete ascoltare anche in streaming attraverso il sito www.radiosperanzapescara.it e per chi volesse ci può anche chiamare al numero 085 69 02 27 per salutarci e condividere qualche pensiero che magari volete condividere con noi. Come sempre ricordiamo che da ormai un po' Radio Speranza è su Facebook, sui social e quindi cliccando mi piace sulla pagina Radio Speranza, possiamo prendere visione e poi condividere ciascuno sui propri profili i contenuti della nostra Radio Diocesana, sia delle trasmissioni che vengono appunto caricate come la nostra e sia riflessioni sull'anno liturgico che ci propone. Anche noi poi condivideremo a nostra volta appunto la trasmissione la caricheremo sulla nostra pagina Facebook Unitalsi Sottosezione di Pescara e quindi anche tutti coloro che vedono e visionano la nostra pagina potranno a loro volta prendere visione della pagina, della trasmissione, riascoltarla e poi condividerla e fare commenti, ecco magari ecco essere anche un po' più interattivi su questa pagina nostra. Sì, e sulla nostra pagina trovate anche poi tutte le nostre iniziative, tutti gli eventi, gli incontri, le giornate che organizziamo. Ricordiamo gli appuntamenti. Sì, ecco qui. E vorrei proprio partire da un prossimo appuntamento perché è imminente proprio fra poche ore la partenza dei nostri giovani che poi si uniscono a tutto il gruppo dei giovani nazionale perché vanno verso la nostra cara Loreto, quindi la Santa Casa di Loreto per vivere insieme il pellegrinaggio nazionale dei giovani. Quindi un'esperienza che si è fatta nel tempo ma si sta riprendendo adesso in questi ultimi anni e quindi è un'occasione per stare insieme e vivere momenti di gioia. Tra l'altro il tema è Tu sei bellezza, la bellezza e riscoprire la gioia di Cristo nella nostra vita e quindi potersi fare poi testimoni. E vorrei leggere quello che è un po' il messaggio che spiega questo significato anche di stare a Loreto perché sapete bene che per noi Loreto è un'altra nostra casa, insomma la nostra casa, come lo diciamo di Lourdes, lo diciamo anche di Loreto e quindi non c'è solo piacere a tornare a Loreto e quindi leggiamo quello che Padre Domenico Spagnoli che è il referente nazionale, il responsabile, l'assistente dei giovani e quindi guida questo gruppo lancia e dice proprio per parlare di questo pellegrinaggio. «Rinascere a Loreto, la Santa Casa, luogo familiare ed accogliente, dove la parola di Dio si è fatta carne. Abbiamo scelto la Casa di Maria per ricominciare un cammino di gioia mai interrotto, ma un po' appesantito. La Santa Casa vuole essere per noi grembo che genera la vita buona del Vangelo. Come la Vergine vogliamo accogliere la parola e farla diventare servizio ed amore nella nostra vita. Nella gioia e nella semplicità vogliamo annunciare che è dunque Gesù la bellezza che ci attrae a sé e ci dà forza per poterci servire come lui ci serve. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Loreto, per imparare ad accoglierci e riconoscerci, perché riconoscersi è la chiave che aprirà la porta dell'amore fraterno. Imparare anche a scegliere la bellezza, quella vera, la gioia dei giovani, il loro naturale entusiasmo ci ha portato a scegliere come tema del pellegrinaggio, tu sei bellezza. Annunciamo con gioia l'amore di Cristo. Ecco, quindi questo è il tema che guiderà i ragazzi, hanno un programma abbastanza intenso, oggi vi arrivi, le sistemazioni, ci sarà il saluto questa sera, credo che facciano anche domani sera, fanno il flambeau perché si fa tutte le sere, tutti i sabati sera, il flambeau del santuario, lo faranno in comunione, insomma, con il gruppo di Loreto e con il loro vescovo, Fabio Dalcin. Questa sera hanno anche un momento di festa, di testimonianza di Francesco e Riccardo che sono dei Sun, dei Sun sarà un gruppo di giovani, io devo dire la verità, non li sei. De Sun, sì, 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 è un gruppo rock che però è d'ispirazione cristiana, cattolica. L'ho capito. Perché hanno anche una bellissima storia anche di conversione perché loro sono partiti come gruppo rock ma lontanissimi dalla chiesa, dalla figura di Cristo e invece poi nella loro vita hanno sperimentato un percorso tutti insieme tra l'altro di conversione e quindi hanno anche cambiato il loro approccio alla comunicazione, quello che comunicano tramite la musica. E poi questa sera appunto hanno il saluto del vescovo, il passaggio in Santa Casa e domani la mattina ci sarà l'intervento del loro assistente appunto di Padre Domenico e di nuovo un saluto da parte del vescovo. Poi faranno un aperitivo in piazza molto simpatico che verrà organizzato prima di andare negli hotel e consumare il pasto negli hotel. Il pomeriggio sarà proprio il pomeriggio dedicato alle attività per le quali si sono preparati in questo tempo quindi poi ci racconteranno, spero la settimana prossima, di avere qualcuno che ci vede, i giovani nostri che ci vengono a raccontare. Fino all'ultimo giorno si concluderà con la messa del vescovo di Loreto appunto nella Basilica Superiore. C'è una novità, dopo questa data è stata stabilita dal vescovo che ha suggerito al nazionale questa data e quindi si sono adattati al periodo. Ma la novità bella è che guarda caso il giorno dopo, lunedì 25, che tra l'altro è una data importante perché ricorda l'annunciazione e quindi una festa mariana, è arrivata la notizia poco tempo fa che il Papa, ormai penso sia noto, si recherà proprio a Loreto per la firma della lettera post-sinodale ai giovani. Allora questa notizia ovviamente ha suscitato grande entusiasmo per cui il nazionale si è dato da fare per permettere a chi già poteva, era lì, essendoci i nostri giovani lì, e dare la possibilità di restare un giorno in più. E quindi si sono dati da fare, qualcuno è riuscito a organizzarsi, quindi anche a restare e vivranno, quindi anche i nostri giovani unitaziani in Italia si sarà presente in questa mezza giornata della presenza del Papa a Loreto. E in proposito abbiamo, c'è un bell'articolo su Avvenire che è uscito l'altro ieri e che mi ha presto a leggere in modo che vediamo anche il Papa e quindi il senso di questa visita alla Santa Casa. Lunedì prossimo la visita, Francesco celebrerà la messa all'interno della Santa Casa, il primo pontefice dopo Pio IX. Nell'occasione Bergoglio firmerà e affiderà alla Vergine l'esortazione apostolica frutto dell'ultimo sinodo sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Lunedì prossimo, solennità dell'annunciazione, Papa Francesco sarà pellegrino alla Santa Casa. C'è fermento, attesa, trepidazione. Loreto e il suo santuario sono sempre stati nel cuore e nelle attenzioni dei pontefici. Ma questa visita, secondo le intenzioni dello stesso Bergoglio, seppur aperta a tutti, avrà la caratteristica della non ufficialità e avverrà secondo uno stile sobrio. Il Papa, come sottolineato, al momento dell'annuncio della visita dall'arcivescovo delegato pontificio di Loreto Fabio Dalcin, verrà a confermare nella fede, scusate ma io leggo da... verrà a confermare nella fede, nella speranza e nella carità i loretani e i pellegrini, nella fedeltà alla missione ecclesiale, i sacerdoti e le famiglie, nella testimonianza del Regno di Dio, i fratelli e le sorelle consacrate. Porterà consolazione agli ammalati, incoraggerà i giovani nel loro entusiasmo, li affiderà a Maria perché li prenda per mano e li guidi alla gioia di un eccomi pieno e generoso. Ricordiamo la festa appunto coincidente dell'annunciazione. Santuario e città stanno lavorando affinché i desideri del pontefice e quelli dei pellegrini possano incontrarsi nella forma più semplice e bella possibile. È importante ricordare che è dai tempi di Pio IX che un Papa non celebra messa tra le pareti della Santa Casa di Loreto, un evento nell'evento cui si aggiungerà la firma dell'esortazione apostolica a posto sinodale sui giovani, che il Papa invierà alla Chiesa e al mondo intero a compimento del Sinodo dei Vescovi tenutosi nell'ottobre scorso sul tema i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Papa Francesco sarà dunque pellegrino tra le pareti della Casa di Maria e della Sacra Famiglia, con la preghiera e il pensiero rivolti all'intera Chiesa, al mondo. Ancora una volta nella semplicità e umiltà della Santa Casa si riverbererà la bellezza della Chiesa, che desidera portare a tutti, senza ambiguità, la sola vera ricchezza di ogni uomo, ha scritto ancora Dalcin, l'unica che resiste a tutte le mode passeggere e non invecchia mai, Gesù Cristo. Il grande vivente, il Cristo eternamente giovane, in questa fede Papa Francesco viene a confermare, tutti. Tutti, anche perché la reliquia trasportata da Nazareth, che si custodisce a Loreto, possiede un'inesauribile ricchezza di messaggi biblici e teologici, rispondenti alle più svariate situazioni sociali ed ecclesiali. Perché Santa Casa significa santuario della famiglia, cioè condivisione, affetti, educazione, come anche cura degli infermi, attenzione e accompagnamento agli anziani. Tutti questi aspetti, oggetto della pastorale recentemente avviata dal Vescovo, verranno presentati a Papa Francesco in occasione del suo pellegrinaggio alla Santa Casa. C'è fervore attesa a Loreto e nell'intera comunità marchigiana, anche perché cresce la consapevolezza che la visita di Francesco sia un'occasione unica, per una nuova stagione di condivisione dei valori umani irrinunciabili, cari ad ogni uomo di buona volontà. Sono certo che il successore di Pietro sarà tra noi messaggero di speranza, ha concluso il Vescovo dal CIN, al momento dell'annuncio della visita. Porterà una ventata di aria nuova per risvegliare il senso di responsabilità e di impegno ecclesiale civile. I segnali che arrivano a chi sta curando l'organizzazione e approntando l'accoglienza indicano un desiderio crescente di rinnovato incontro e dialogo, anche tra le varie membra del corpo ecclesiale, ma soprattutto tra credenti, non credenti e appartenenti ad altre religioni. Ecco, noi siamo contenti e orgogliosi che si coincida appunto questa presenza dei giovani, proprio in un momento in cui il Papa va a sottolineare e a confermare tutto ciò che è uscito fuori da questo sinodo dei giovani e a dare loro sicuramente un messaggio di grande speranza e di grande coraggio. E quindi poi ci faremo raccontare da loro, sperando la settimana prossima, di averli qui con noi, come sarà stata, come sarà questa esperienza. Sicuramente è un'esperienza bellissima, insomma, avendo partecipato negli anni alle precedenti edizioni della giornata nazionale dei giovani, posso assicurare che sicuramente sono esperienze veramente belle, in cui è bello anche poi conoscere tanti ragazzi delle altre sezioni e sottosezioni italiane, conoscere le altre realtà, conoscere anche come l'Unital si viene vissuta e viene portata avanti in realtà diverse dalla nostra. Sono sempre incontri che arricchiscono. Poi proprio a Loreto sono iniziate le giornate nazionali nel 2007, fu proprio il primissimo incontro, la primissima giornata nazionale dei giovani, no giornata, appunto, incontro nazionale, pellegrinaggio nazionale dei giovani. Poi sono seguite a Sisi, Siracusa nel 2009, Roma, poi la Polonia, sono stati tanti incontri veramente speciali e bellissimi. Lasciano un segno in loro. Quindi mi fa piacere che si riprenda proprio da Loreto. Questo cammino. Bene, e ci faremo raccontare. Adesso ci fermiamo un attimino con uno stacco musicale e poi continuiamo a raccontarvi di noi. La donna di Loreto La donna della casa Entra nella mia casa e custodisce Nella mia famiglia Il bene più prezioso della fede E la gioia e la pace dei nostri coni Madonna che proteggi la mia casa Non ti scordare mai di noi E tienici con te E tienici con te Madonna di Loreto Madonna della casa Entra nella mia casa Entra nella mia casa e custodisce Nella mia famiglia Il bene più prezioso della fede E la gioia e la pace dei nostri coni E la gioia e la pace delle nostri condi E la gioia e la pace delle nostri coni Grazie a tutti. L'Unitalsi celebra la diciottesima edizione della giornata nazionale e in tutta Italia si festeggerà questa giornata nazionale con la presenza del territorio e offrendo come di consueto una piantina di ulivo e in alcuni casi anche la palma, simboli di pace e di fratellanza. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall'Unitalsi per sostenere i numerosi progetti di carità in cui l'associazione è impegnata quotidianamente in tutta Italia e anche su territorio internazionale al servizio delle fasce più disagiate grazie al costante e generoso impegno dei propri volontari. Quest'anno abbiamo un nuovo testimonial che è Flavio Insinna, attore e conduttore tv, che ha sostituito la cara figura di Fabrizio Frizzi che per tanti anni è stato testimonial dell'Unitalsi e che ci ha accompagnato per tanti anni nella giornata nazionale e anche all'URD. Flavio Insinna ha lanciato un appello a tutti i soci e ha detto, leggo le parole, amici vi aspetto tutti in piazza sabato e domenica per dare una mano ai volontari dell'Unitalsi perché, come Fabrizio ha sempre testimoniato, senza il vostro aiuto molte persone ammalate e disabili, giovani e anziane, resterebbero sole ed emarginate. Poi l'Unitalsi si è impegnata anche per diffondere quanto più capillarmente questa iniziativa, infatti ha ottenuto la sensibilizzazione del segretariato sociale RAI e per il quarto anno consecutivo ha anche avuto la collaborazione della Lega Calcio di Serie A Team, che ha aderito alla campagna promossa dall'Associazione. Infatti, durante il ventinovesimo turno di campionato di calcio di Serie A, sia sabato 30 che domenica 31 marzo, prima del calcio d'inizio, al centro del campo verrà posizionato lo striscione Unitalsi. E inoltre la Lega Calcio si è resa disponibile a dare lettura di un messaggio istituzionale da parte degli speaker e di un video sui maxischermi degli stati del massimo campionato. Antonio Diello, il presidente nazionale Unitalsi, ha detto che la giornata nazionale, come recita lo slogan, è un'occasione di felicità per tutti. E lo sarà ancora di più se dopo queste giornate di sensibilizzazione, l'Unitalsi, grazie ai suoi volontari, riuscirà a raggiungere sempre più persone che vivono nella sofferenza. Sono felice di avere al nostro fianco Flavio Insinna, nostro testimonial che ha aderito all'Unitalsi lasciandosi coinvolgere dalla nostra gioia, continuando il cammino di Fabrizio Frizzi, che in questi anni ci ha accompagnato con affetto e la sua grande umanità. Anche noi ovviamente saremo in campo, proprio è il caso di dirlo, sia in piazza con il nostro gazebo, anche quest'anno saremo in piazza Sacro Cuore, tutta la giornata di sabato e tutta la giornata di domenica con i nostri volontari, con le piantine di ulivo ovviamente, e anche materiale informativo, il nostro programma, quindi potete venire a trovarci sia per supportarci attraverso le offerte in cambio della piantina di ulivo. Ricordo che l'offerta minima è di 10 euro, ma anche per prendere visione, per conoscere un po' che cos'è l'Unitalsi, cosa facciamo, quali sono le nostre attività sul territorio, prendere informazioni sui pellegrinaggi, i nostri volontari saranno a disposizione per darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno. E poi ovviamente non solo in piazza, saremo presenti anche in tante parrocchie, non solo di Pescara, ma anche un po' della diocesi, quindi aiutami Federica a ricordare le tante parrocchie. Allora quest'anno, il 30 e 31, forse anche più il 30, più solo la domenica, però alle messe della domenica, quest'anno stiamo provando ad andare anche un po' fuori, ad allontanarci un po', va bene i nostri paesi un po' più vicini, come Villanova, Santa Teresa, Cepagatti, che già abbiamo percorso negli altri anni, ma stiamo cercando di andare un po' oltre, quindi anche ad Alanno e a Torre dei Passeri, e c'è anche la bella novità, proviamo, per la quale il parroco di Torre dei Passeri, vicario foranio della forania di Torre dei Passeri, sarà a celebrare messa al santuario di Santo Nunzio, quindi Pesco Sanzonesco, quindi ci ha invitato anche, siccome c'è una giornata di un'associazione, adesso non ricordo quale, ci ha invitato ad essere presenti a quella funzione, perché può essere anche uno spazio che lui ci dà per promuovere l'associazione, quindi ecco ci sono queste belle novità, oltre le nostre parrocchie cittadine, quindi veramente ne abbiamo tante, che adesso è il vuoto perché poi ricordare un po' tutte quante diventa difficile, ringraziamo tutti i parroci, ovviamente non facciamo in tempo a coprire tutte le disponibilità che abbiamo, quindi ci siamo spostati, abbiamo anche delle, continueremo diciamo in altre parrocchie, il 6 e il 7 aprile, e quindi questa è la possibilità che abbiamo, che l'Unital si dà, di essere visibile sul territorio, cercando di allargarsi il più possibile, ecco qui ci vuole tanta collaborazione da parte dei soci, dei volontari, perché ci dobbiamo distribuire, la piandina ci vuole proprio l'organizzazione a portarla, a essere per preparare il banchetto, quindi almeno un paio di persone su postazione ci dobbiamo essere. Sì, e comunque potete chiamare il numero verde 800 062 026, e lo ripeto, 800 062 026, è il numero verde dell'Unital, sì, a cui potete anche chiedere informazioni dove trovare, le piazze, le varie località, ho comunicato anche le parrocchie, in cui noi saremo presenti, quindi potete individuarci in base alle vostre necessità, e comunque vi aspettiamo a Piazza Sacro Cuore, con il nostro stand. E poi invitate amici, ecco, quindi, anche perché ci sono, insomma, vi diamo anche informazioni sui pellegrinaggi, le date ci sono, quindi si può già incominciare un attimino a ragionare sulle iscrizioni, e quindi è importante contattarci. Ci resta poco tempo, magari ne accennerò a qualcosa nelle prossime occasioni. Io sono di ritorno sempre da Loreto, perché quest'anno Loreto è molto vissuta dall'Unitalsi, dall'incontro nazionale dei presidenti, che si è svolto lo scorso fine settimana, dei presidenti o comunque dei responsabili, quindi è un corso di formazione che prevede proprio quasi la normativa, in un certo senso, perché noi siamo un'associazione, ricordo, di promozione sociale, inserita nel terzo settore, e quindi c'è questa riforma nuova del terzo settore, quindi tante novità, anche a livello burocratico, ma sembra pesante, ma in realtà è una cosa importante, che tutti siano informati, e che le cose si facciano a norma di legge e di regolamento, per dire che è una cosa seria, non fare le cose con superficialità, quindi è necessario che i responsabili ogni anno percorrano questa strada della formazione, sono stati toccati vari argomenti, anche importanti sulla sicurezza, la privacy, soprattutto questi argomenti qua, amministrativi, ma soprattutto ripuntualizzare e risollecitarsi sull'importanza dei pellegrinaggi, del nostro carisma, e tutti i progetti che l'associazione porta avanti, e ci saranno novità anche su questo fronte, però ne parleremo con calma, in maniera più dedicata, nelle prossime volte, che ci coinvolge come sottosezione. In questa occasione, purtroppo, l'Unitalsi ha salutato, ha dato il suo ultimo saluto, ed è stata bella la coincidenza di essere tutti insieme in Unitalsi Nazionale a Loreto, di domenica, della morte della vicepresidente Amelia Mazzitelli, che ha commosso in particolare tutti quanti, il nostro presidente nazionale in particolar modo, lei è stata, ed è, continua ad essere, un membro importante, un socio importante, una sorella di esempio per tutta l'associazione, era della sezione calabrese, è stata anche presidente della sezione calabrese, ma aveva veramente un animo generoso, e veramente innamorata e dedicata la sua vita all'associazione. Quindi è stato proprio un profondo, purtroppo l'Assemblea Nazionale, che in genere questi incontri si concludono sempre con grande grinta, dando l'entusiasmo a tutti i presidenti per lanciare la nuova stagione, e è chiaro che il tema, il tono è stato un po' dimesso, però sempre nella speranza, ecco, della festa in paradiso, per l'entrata di questa, ecco, ci ha lasciato prematuramente, nel senso che purtroppo una grave malattia l'ha portata via, quindi ecco, anche in poco tempo, ecco, quindi forse uno voleva avere un po' più tempo per viverla ancora, per salutarla, per avere la sua vicinanza, ma non ci è stato concesso. Dobbiamo fidarci dei piani di Dio. Esatto, e quindi sicuramente adesso guiderà l'Associazione e gli darà dall'assù uno sguardo in particolare per questo nuovo, questo fine di periodo, perché sappiate che incominciamo a guardare al futuro, perché sta finendo il quinquennio di questa presidenza, quindi la presidenza nazionale sta arrivando alla conclusione, e quindi ci si riappresta a iniziare un altro quinquennio, e quindi ecco, le votazioni, i cambi di direzione, ecco, sono decisioni importanti che devono essere prese. Speriamo che lei ci illumini sempre da lassù. Sicuramente. Vi salutiamo, vi chiediamo sempre di starci vicino con le vostre preghiere, di accompagnarci in tutto il nostro cammino. Buona giornata a tutti. Buona domenica. Buona giornata a tutti.